Credo abbia parlato l'altro giorno della mia situazione, credo che abbia ragione. Invece? Cosa dici? No, io non ho nessun tipo di... come ti posso dire? Aspetta, mi viene la parola. Per me è uguale, l'ho già detto tante volte, questa è una situazione che devono decidere le società. Si sa che per legge io a fine anno devo andare o da una parte o dall'altra, e si sa che è molto probabile che sia più facile arrivare dall'Inter, nel senso come proprietaria di cartellino, ma se poi io non ho nessun problema a rimanere a Bologna, l'ho detto l'anno scorso e lo dico quest'anno. Si vedranno quali saranno i programmi dell'Inter a giugno, e io sarei anche contento di rimanere senza nessun tipo di problema. Ma andare all'Inter sarebbe per te... cioè vorresti andare all'Inter come primo portiere? Credo sì. Ma essere il secondo per te è un problema? Per me è un problema essere il secondo, ma non perché non voglio essere secondo a nessuno, perché comunque secondo a Giulio Sese è un grande portiere, è perché non ho voglia di fermarmi. Nella mia carriera ho avuto sempre la fortuna di giocare, ho dimostrato il fatto che fra due o tre partite faccio 200, mi sono da professionista e ho 25 anni, quindi mi piace giocare, prendimi responsabilità come dicevo prima. Poi si vedrà quali sono i programmi, nel senso l'ora sicuramente dovrà... cioè ci parlerò prima o poi, spero si risolva prima di giugno, non si arrivi alle buste, credo che si risolverà prima e poi si vedrà quali sono le intenzioni di tutte e due le società.